La pace che alleggiava da oltre un decennio sulla penisola italiana era ormai solo una tacita preparazione prima della tempesta. L'11 settembre 1643 infatti un emissario ungherese venne accolto dalla corte Sabauda, recapitando una richiesta di entrate in guerra contro la Repubblica di Venezia. Attirato dall'idea di poter nuovamente erodere il potere del vicino doge nemico, Carlo Emanuele I accettò facendo dirigere il proprio esercito in territorio nemico. Penetrati in maniera troppo affrettata senza il supporto logistico necessario, l'esercito piemontese venne facilmente battuto durante l'assedio di Treviso da un ridotto contingente di avversari veneziani. Alla sconfitta però seguì una decisiva battaglia avvenuta cinque mesi dopo alle porte della Romagna il 22 aprile 1644 in difesa della Roccaforte attaccata dai veneziani. L'esercito nemico sconfitto dovette ritirarsi nuovamente sulla laguna veneziana lasciando completamente indifesi i propri territori che in otto mesi vennero interamente occupati. Nel pieno della guerra sopraggiunse però un tragico evento. Il 14 settembre 1646 Carlo Emanuele I morì lasciando il trono e le sorti del conflitto nelle mani del giovane Gianus I di Savoia. Uomo di fine ingegno diplomatico fin da giovane, volle dimostrare fin da subito la sua sicurezza nella gestione reale impegnando la Savoia in un secondo conflitto e dichiarando così guerra a Siena l'11 ottobre 1647. Mentre la veloce occupazione dei territori senesi veniva portata avanti l'alleato ungherese circa due anni più tardi firmò la pace con Venezia riuscendole a strappare i territori di Istria, Trieste, Zara, Gorz e Tenim. Terminato il conflitto veneziano fu necessario aspettare il 12 giugno 1649 per vedere firmata la pace con Siena che riconosceva l'annessione totale dell'avversario. Sebbene la situazione nel nord Italia sembrasse apparire sotto controllo una terribile notizia giunse da Est. Aragona, uscita vittoriosa dalla guerra per la supremazia reale contro Castiglia, ora aveva unito sotto di sé il nemico inglobandolo come suddito. Giannos Primo di Savoia sapeva ormai bene che la peggiore preoccupazione di suo padre era vicino a compiersi e la resa dei conti sarebbe stata più immediata di quanto si potesse mai pensare. Buon salve ragazzi, un saluto da Mette, bentornati su Nerd is the Way. Bentornati come sempre con la nostra visuale globale per poter vedere meglio che cosa sta succedendo in giro per il mondo ma soprattutto bentornati e ben ritrovati con la mia solita voce orrenda che come potete vedere purtroppo ancora non si è rimessa in sesto ma questo non ci ferma, non ci ferma da ringraziare tutti voi che mi seguite, che mettete like al video e supportate il canale ma soprattutto non ci ferma nel ringraziare i miei consiglieri dello scorso episodio tra i quali Pietro Lorusso, Diego Mantovan, Bismarck, Tommy Rondatz, Il Ciporofode, Nikoku Shaker, Luca Petr e Gabriele Canevari. Dunque, uno dei consigli che più mi sono stati rivolti lo scorso episodio era praticamente una richiesta di vendetta pura e semplice verso l'Ungheria perché l'Ungheria, intanto mentre zoomiamo, nello scorso episodio si è presa la provincia di Gorz ma soprattutto l'Istria e anche parte della Dalmazia. Ovviamente tanti dicevano, eh ma adesso questo è problematico per unificare l'Italia dato che devi anche attaccare il Tirolo. Ora, io sono andato un attimino a vedere e effettivamente qua su Europa Universalis 4 perché si occupi, se si attivi per così dire l'achievement dell'unificazione italiana non si necessitano di tutte le province. Vi faccio vedere. Per formare la nazione italiana noi dobbiamo avere tutti questi tre regioni che abbiamo già, oltre a Verona, Roma e Ancona. Questo vuol dire che noi dovremo ancora attaccare una volta il Veneto, non riuscivo neanche più a parlare, per prendere Verona e poi Ancona e Roma rispettivamente da Aragona e da Napoli. Quindi noi, eh, nell'immediato cercheremo di attaccare Venezia. Dopodiché cercheremo di schiacciare Aragona. Schiacciata Aragona, grazie all'aiuto di Napoli, Napoli non ci sarà più utile, romperemo le alleanze e attaccheremo Napoli. Dopodiché penseremo poi dopo a rifinire il tutto andando ad attaccare nuovamente Venezia, ad andare a prendere l'Istria da Lungheria, ma sono cose che vedremo poi dopo. Un'altra cosa, dunque, io intanto mi sto attrezzando per tenere dei soldi da parte, per fare guerra a Tlechem, cosa che avevamo sempre promesso. Al momento non stiamo guadagnando molto, perché, come vedete, è 4,91, ma abbiamo sempre l'otto alla corruzione molto alta, dobbiamo ridurla almeno a 4, almeno. Nel mentre, molto semplicemente aspettiamo, anche perché abbiamo 14.000 di manpower, non possiamo fare molto. Stiamo migliorando le nostre relazioni e via così. Una cosa che mi sono sempre dimenticato negli scorsi episodi, tanti di voi mi hanno detto, ma visto che gli ottomani sono così potenti, dato che allora erano due tecnologie militari sopra di noi, adesso sono al nostro stesso livello, ma dispongono di ben 136.000 uomini rispetto ai nostri 77, mi hanno detto, ma scusate, perché non pensi di allearti con i timuridi, che come vedete sono anche loro molto, molto grossi? Il problema è che i timuridi hanno una tech level di livello 14 contro gli ottomani che è a livello 20, e infatti gli ottomani stanno vincendo pesantemente, oppure hanno già vinto con la guerra, infatti hanno già terminato la guerra, l'hanno già vinta, vincevano circa il 96% contro i timuridi. Non ha molto senso, non ha molto senso. Abbiamo un giro di alleanza abbastanza forte tra Polonia, Ungheria, Bavaria, Erzbollen e Francia, e anche Napoli, l'unica cosa è che bisogna sperare che i nostri alleati vengano in nostro aiuto. In questo episodio quindi ci preoccuperemo principalmente di mettere i soldi da parte, abbassare la corruzione, sperando che nessuno ci chiami in guerra, e non attacchiamo il Tirolo, per il semplice motivo che sebbene sia piccolo, questi stronzoni come vedete sono alleati anche della Gran Bretagna, attaccarli spingerebbe la Gran Bretagna in guerra e dovremmo chiamare da una nostra parte la Francia, cosa che vorrei evitare perché la Francia me la voglio tenere buona nella guerra contro gli ottomani, soprattutto mirando a Aragona, perché facendo guerra a Aragona il mio obiettivo sarà andare subito a togliere le isole, cosa difficile da conquistare nell'immediato. Ma soprattutto rompere l'alleanza tra Aragona e gli ottomani, in questo caso anche grazie alla Public Union con Castiglia noi comunque dovremmo riuscire a gestirli abbastanza tranquillamente. Quindi come sempre andiamo a mettere il nostro buon timer e adesso aspettiamo un attimino continuando a vedere un po' come va il tutto, come va il tutto. Abbiamo un diplomatico, direi che lo possiamo magari mandare a Napoli, se il gioco ce lo permette. Esatto, infatti Napoli è un attimino indecisa. Offriamole il diritto di accesso. Dopodiché facciamo un Improve Relation. Ok. Perfetto. Intanto abbiamo mantenuto anche il massimo con la Polonia, quindi direi che possiamo togliere. E vorrei provare a vedere un attimino come va in giro. 125. Continuiamo a migliorare le relazioni. Allora, aspettate un attimo però, io vorrei provare a vedere se posso inserirmi per garantire l'indipendenza. Allora... Missa di no. Missa di no. Peccato. Va bene, continuiamo a migliorare le relazioni, sperando che magari si riusciano se riesco un attimino a fare qualcosa. A un Liberty Desire del 29. Oh, no! No! No, no, no! Era proprio quello che volevo evitare. Cazzo. Cazzo, si è creata la Spagna. Cazzo. Porca puttana. Si è creata la Spagna. Cazzo. Porca vacca. Questa situazione non ci voleva. Questa situazione non ci voleva. Porca vacca. Santo cielo, santo cielo. Questa situazione non mi piace, non mi piace. Io speravo almeno di avere la possibilità di supportare l'indipendenza di Castiglia verso Aragona. Però così, adesso che si sono unificate, eh... Porca vacca. Sinceramente però non trovo sensato che... ...uno Stato come la Spagna abbia una relazione di 157... ...con gli ottomani. Va bene, peggioriamo un attimo i nostri mercanti, ma tanto sarebbe solo per due anni. Quindi tutto sommato la cosa va bene. Abbiamo un matrimonio con la Francia. Perché il sovrano francese è morto. Accettiamo. Jean di Savoia. Ok. Ha un consiglio di regenza. Quindi questo vorrebbe dire che per almeno tre anni non li possiamo chiamare in guerra. Ok. Però scusate. Allora, quanti militari hanno questi benedetti spagnoli? Spain. Hanno 55.000 uomini. Perché io non posso dichiarare guerra a questi cazzo di spagnoli e togliergli dalla faccia della terra? Allora ci devono essere sempre questi fottutissimi ottomani che li vogliono proteggere perché siete due religioni diverse. Non potete... Ok, aspettate però. Aspettate un attimo. Aspettate un secondo. Venezia verrebbe, gli ottomani verrebbero e verrebbero tutti i nostri alleati. Ok. Sto seriamente ripensando di nuovo di cambiare di nuovo tutte le carte in tavola. Sto ripensando seriamente di nuovo di cambiare tutte le carte in tavola. Allora, un secondo, un secondo, un secondo. Io posso costruirne ancora? Undici. Ok. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Quest'occasione non la posso perdere, non la posso assolutamente perdere. Ok. Allora. Piano. Bisogna studiare tutte le cose. Allora, il Portogallo è in guerra con... Accettiamo. Sì, 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 ragazzi. È giunto il momento. È giunto il momento. È giunto il momento. Ok. Allora. Aspettiamo ancora un mese. Perché dobbiamo aspettare che le truppe si rimettano in sesto. Ok. Allora. Accettiamo, va bene. Dunque. Questa truppa la mettiamo qua. Poi. Questa. Ah, non la possiamo ancora muovere. Va bene. Aspettiamo ancora un mese. Ok. Allora. Questa qua. Questa qua. Questa qua. Ottimo. E con questo dovremmo riuscire a coprire questo. Poi. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. E cinque. Ok. Possiamo prendere questa? Sì. Va bene. Prendiamola. Possiamo prendere un'idea. Non so bene che cosa prendere come idea. Sinceramente lascerei la scelta ai vostri consigli. Quindi voi datemi un consiglio su che idea credete sia il caso di prendere. Al momento non la prendo. Non voglio ancora prenderla. Va bene. Aspettiamo ancora un secondo. Aspettiamo che le truppe si mettano in posizione. Ok. Perfetto. Qua possiamo convertire. Allora. Così dovremmo riuscire a coprirle tutte fino a qua. Ottimo. Questo vuol dire che noi abbiamo duemila uomini in più. Nessun problema. Quindi ne mandiamo uno qua. E l'altro qua. Ok. Allora. Proviamo a vedere un attimo. I nostri mammelucchi. Per dire. Sarebbero disposti a un'alleanza? No. Va bene. Come non detto. Allora possiamo anche rimuoverli. E andiamo a fare anche un build spy network sugli ottomani. Ottomani. Bene. Dunque. Io sono tentatissimo. Sono tentatissimo. Di preparare la guerra e far scattare la terza grande guerra di unificazione italiana contro Spagna e ottomani. Sono tentatissimo. Ci indebiteremo fino a qualcosa di imbarazzante. Ma è giunto il momento. È giunto il momento. Non possiamo aspettare oltre. Non possiamo aspettare oltre. Quindi. Uomini. Via al massimo. Prepariamo i nostri uomini al massimo della forza. Matrimonio con l'Ungheria è finito. Molto bene. Ne rifacciamo subito un altro. Ce l'hanno già pensato loro. Ottimo. Dai. Ok. Stop. Allora. Piano. Questa è tipo la mossa decisiva. Se scazziamo qua abbiamo letteralmente perso tutto. Allora. Orzvolen non verrà più. Perché? Perché Orzvolen è in guerra. Con un fiutio di altre persone. Va bene. Però aveva 21.000 uomini. Aveva la tech level di livello 20. Ok. Ragazzi sono tesissimo. Ragazzi sono tesissimo. Sono tesissimo. Allora. Subito. Facciamo così. E poi scendiamo subito a velocità 3. Va bene. Io lo faccio. Io lo faccio. Conquistiamo. Conquistiamo. Ancona. Ci sta che è ancora un nostro core. Per la conquista italiana. Varebbero ottomani e Venezia. Ok. Allora. Uno qua. Lui qua. Lui qua. Loro due si riuniscono. Eccoli qua. Perfetto. Allora. Perché io non li ho messi di nuovo? Oddio. Avevo dato l'opzione di... Ah no. Li ho messi. Ho messo la flotta. Vero? Avevo messo la flotta. Oh. Santo Dio. Perché mi toglie sempre la spunta ogni volta? Che palle. Ok. Allora. Loro due dritti a treviso. Poi. Napoli ci dà il diritto di passaggio. Ah perché c'è il forte nemico. Ok. Va bene. Allora molto semplicemente facciamo così. Sperando che basti. Allora facciamo così. E così. Poi. Questi uomini li spostiamo qua. Prima che sia troppo tardi. Dai. 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 Cazzo. Dai. Ok. Questi qua li spostiamo qua. E questi qua. Quanto ci vuole questi per arrivare? Ok. Perfetto. Questi li mettiamo di nuovo a Genova. E nel dubbio togliamo i forti. Anzi. Mettiamo quelli in Provenza. Quelli a Genova. E questo a Brescia. E questo in Romagna. Questa sarà una guerra molto molto lenta. Ve lo anticipo già da subito. Ve lo anticipo già da subito. Prenderemo tanta di quella sovraestension con questi territori che Dio solo sa. Dio solo sa. Il problema sarà quando arriveranno sugli ottomani. Perché gli ottomani sono entrati in guerra, vero? Sì, infatti. Guardate che casino che abbiamo combinato. Ok, ok, ok. Allora. Ah, sti stronzi sono andati qua. Ad assediare. Va bene. Aspettiamo un attimo. Vabbè, non ho preso il coso. Chi se ne frega. Prestito lo tagliamo. Questo lo tagliamo. Abbiamo qua in Venezia che ci sta già occupando i territori. Ma noi non ci facciamo troppi problemi. Ok. Intanto i nostri uomini in Corsica li abbiamo mandati. Perfetto. Perfetto. Qua i territori li stiamo prendendo. Molto bene. Dai, che ci siamo. Prendiamo anche questo. Siamoci qua. 14% in negativo. Va bene, va bene. Allora, finché non escono gli ottomani con i 130.000 uomini siamo a cavallo. Facciamo attenzione qua che... Attenzione. Via. Venezia se n'è appena andata, quindi possiamo andare a conquistare anche tutta la Sardegna, dato che non dovrebbe avere forti. Perfetto. Sarà una guerra lunghissima. Possiamo chiamarli in guerra anche gli Erzvollen. Chiamiamo in guerra anche gli Erzvollen. Ah, ok. Non accetterebbero. Allora facciamo... Facciamo un Grand Electorate. Perfetto. E poi facciamo un Call to Arms. Sti stronzi però non continuano a non accettare. Va bene. Facciamo allora un Improve Relation. Però tra un mese. Ok, c'è tempo, ma non ci distraiamo. Ottimo. Andiamo a Sassari. Eccoli qua, guardate i Polacchi che stanno scendendo. Guardate i Polacchi che stanno scendendo. Ok. Ragazzi, sono emozionatissimo. Forse... Forse ce l'abbiamo fatta. Va bene. Il controllore papale è uno svedese. Intanto gli Spagnoli stanno prendendo la Francia. Ok. Non so dove cazzo siano finiti i 26.000 Veneziani. Intanto abbiamo preso anche Sassari. Andiamo a prendere Arborea. Intanto è finito il tempo. Ma abbiate pazienza, ma questa sarà una guerra che durerà parecchi, parecchi episodi. Perché dobbiamo lavorare con molta, molta, molta attenzione. E se per qualche motivo facciamo un errore, gli ottomani ne approfittano e ci piallano interamente e ci demoliscono la partita. Se perdiamo questa guerra, la partita è persa. Cioè, non mi vergogna dirlo. Non sono così esperto da... Da potermi riprendere per una cosa tale. Però, tutto sommato, sembrerebbe che gli ottomani non abbiano gli eserciti nella zona europea. Quindi questo è positivo. Guadagniamo 10 di legittima, sì. Vediamo un pochino se possiamo chiamare gli Airs Wallen in nostro aiuto. Niente, non ancora. Va bene, aspettiamo. A questo punto direi che possiamo togliere loro e mettere un miglioramento degli Airs... Ah no, gli Airs Wallen sono già a 200. Come non detto. Allora continuiamo a migliorare. Facciamo un Royal Marriage, dai. E anche un Improved Relation. 42, meno 28, ok. Allora, qui lasciamo mille uomini. E questi altri li mandiamo qua. Oh, bene, Umbria è caduta. Allora. Mille qua. Mille qua. Mille qua. Mille qua. Mille qua. E andiamo a occupare tutta l'Italia. Poi. Gli altri qua. Insieme a questi. Va bene, va bene, va bene. Non so dove siano finiti i veneziani, ma va bene così. Non so neanche dove siano finiti gli ottomani, se per questo. Ma va bene così. Nel mentre voglio migliorare le relazioni con... Innanzitutto fare un Billspy Network qua, su Venezia. E provare a vedere un attimino come va con le relazioni. Miglioriamo con la Bavaria. Se il prossimo mese sono al massimo, lo togliamo. Perfetto. Ok. Allora, questi li mandiamo di nuovo a Messina. Questi li mandiamo a Messina. Questi li mandiamo a Messina. No, perché ci hanno già bloccato i porti. Ok. E anche questi li mandiamo a Messina. Ottimo. Il Sud Italia è tutto conquistato. Sti stronzi però adesso si stanno riprendendo. I veneziani si stanno riprendendo. La Corsica. Porca troia. Ok. Facciamo così. Così. Voglio portare in salvo questi uomini. Ok. Teniamoli qua. Voglio tenerli un attimino buoni. E vedere se effettivamente questi uomini ci bastano. Perfetto. Ci bastano 8000 uomini. Recall Diplomatic. Mandiamo anche loro qua. Non si può. Perché ci sono gli spagnoli che stanno passando. Perfetto. Questi adesso entrano? Sì. Perfetto. Chiamiamo anche Orsvollen in aiuto. E adesso direi che possiamo magari fare anche così. Mettiamo solo Genova. Provence. Provence. Lucca. E Siena. Perfetto. Molto bene. Molto 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 bene. 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 La Spagna l'ha giocato malissimo. Perché mi ha permesso di muovermi qua. Va bene. Questi territori li hanno presi. Nessun problema. Facciamogli continuare a fare il loro giochetto. Non possiamo vero chiamare la Spagna. C'è. La. No. Peccato. Oh. Finalmente. Cazzo. È finito la sedia di Treviso. Ok. Allora. Cosa facciamo? Mi sembra che qua i francesi sono tranquilli. Ci servirebbe. Una mano. Allora. Vediamo un attimo. Pace separata con Venezia. Non ci darebbero nulla. Ok. Molto bene. Facciamo così. E a questo punto puntiamo un attimino a prendere i territori. che sono in Spagna. Vabbè. Questi me li distruggono. Tutto sommato va bene. Va bene. Ok. Anche quella. Non è un grosso problema. Tanto il nostro core lo stiamo... Cioè il nostro obiettivo della guerra l'abbiamo presa. Qua ci sono 32.000 uomini. Ok. Che mi sa sono stati battuti. Perfetto. Però ne stanno arrivando altri 32.000. Quindi dirigiamoci qua. Teniamone i mille. Vediamo se vanno là. No. Non ne vanno là. Ok. Come non detto. Va bene ragazzi. Dunque l'episodio rischierebbe di diventare eterno. Quindi mi permetto di interromperlo qui. La guerra tutto sommato devo dire che sembra andare per il meglio. Gli ottomani non so bene dove siano rimasti bloccati. Sono rimasti probabilmente bloccati in Fezzam contro Fezzam e in Mammelucchi. Perché vedo che stanno in guerra contro di loro. E i Timuridi non penso siano in guerra anche con gli ottomani. No. Quindi dobbiamo sperare di sbrigarci. Togliere di mezzo Venezia. Prendendo territori sensati. Vorrei prendere almeno Treviso, Vicenza e Verona. Dopodiché puntiamo a prendere i territori spagnoli. Bene ragazzi. Grazie per avermi seguito. Se volete darmi dei consigli su come continuare questa guerra. Oppure come credete che sia il caso di continuare gli prossimi episodi. Naturalmente datemi dei consigli su che idee ritenete siano sensati prendere, sia sensato prendere ora, in questo momento del game. Considerando che abbiamo una penalità della tech del 7%. Tra poco prenderemo la tech di livello 21. E purtroppo le manifatture, se voi provate a vedere, sono uscite tipo dalla parte opposta del globo. Quindi probabilmente dovremo aspettare un bel po' per averle. Quindi come sempre mettete like al video se vi è piaciuto. Scrivete sotto cosa ne pensate, che cosa i miei consiglieri mi propongono. E ci vediamo molto presto per un altro e prossimo episodio. Ciao ragazzi.